Ciao, sono Taranai, sono un ragazzo di 26 anni, vengo da Milano e il brano che porterò a Sanremo si chiama Sesso Occasionale e nonostante il titolo possa suonare provocatorio, in realtà il messaggio che voglio portare è quasi quello di un amore un po' più antico invito quasi a lasciare da parte il sesso occasionale per dedicarsi in maniera più completa a una persona quindi questo è quello che porterò sul palco dell'Ariston